Mi chiamo Jim. Io sono Lauren. Ti ho ordinato dei gamberetti piccanti con la salsa a parte. Perché la salsa è così piccante? Portate acqua! Tieni, mangia un po' di zuppa di cipolle. Jim, che cosa vuoi? Hanno scambiato le carte di credito. Lauren, devo parlare con te. Che succede? Tra me e Dick è finita. Dove voleva portarti in vacanza? In Africa. Il suo cognome è Teodopolis? Sì. È il mio capo. I miei ragazzi darebbero di tutto per fare una vacanza così. Signor Teodopolis, salve, sono Jim. Mi chiedevo... Se fosse disposto a vendermi quella vacanza. Aspetta che lo dica ai ragazzi! Aspetti che lo dica alle ragazze! Andiamo in Africa! Sì! È una vera ficata, mamma. Quello che ci fa qui? Non parlare così a mio padre, faccia da culo. Modere il linguaggio. Lei può dire faccia da culo se vuole. Faccia da culo, faccia da culo. No, tu... Siete pronti per la settimana più romantica di tutta la vostra vita? Non mi faccio una doccia da quando siamo arrivati. Lo so, Puzzi, mi piace. E' bellissimo! La benzina è finita! Cosa? Comincia a correre veloce! Vai, vai! Cosa? Cosa?